Ogni anno o in ogni stagione c'è un certo tipo di discussione che verte sul tempo. Se effettivamente fa più freddo o più caldo, o meno freddo o meno caldo, degli anni precedenti. Quest'anno direi proprio che almeno dove vivo io, vicino Roma, intorno a Roma e a Roma stessa, si dice che fa più freddo. Io non mi sono documentato al riguardo, cioè non sono andato a fare un parallelo tra il freddo degli anni precedenti e di quest'anno, perché la mia esperienza, per quanto mi riguarda al momento, vale di più di quello che leggo sul termometro, cioè per me quest'anno fa più freddo. E quando penso al freddo in inverno, nel momento in cui mi occupo di piante, mi viene da pensare appunto a un fenomeno meteorologico molto importante che caratterizza tanto le preoccupazioni delle persone che coltivano delle piante particolarmente delicate, e cioè le gelate. Io sono Francesco Cecchetti e questo è Giardino Rivelato, podcast dedicato all'arte dei giardini e a tutti coloro che pensano, che sono convinti che abbiamo tutti bisogno di un giardino. E proprio perché abbiamo tutti bisogno di un giardino, che sia un giardino estetico, che sia un giardino storico, che sia un giardino da coltivare per mangiare roba, può capitare di mettere nel nostro giardino delle piante che non sono proprio pronte a qualunque evento meteorologico capiti nelle nostre latitudini, nella zona in cui viviamo. Per esempio, nel nostro clima mediterraneo è molto facile che gli agrumi, in realtà in tutte le zone subtropicali, che gli agrumi possano gelare per questo fenomeno che appunto si chiama gelata. Ora, che cos'è una gelata? È un termine un po' vago. La gelata vuol dire che la temperatura è al di sotto dello zero. Ora, per esempio, in meteorologia c'è la gelata bianca, cioè quando c'è la brina, oppure la gelata scura, quando non noti questa gelata. In agronomia si parla di una gelata quando, oltre all'abbassamento della temperatura sotto lo zero, ci sono danni, ci sono effettivamente dei danni. Per esempio, in questi giorni la temperatura è stata sotto lo zero, ma non ci sono stati danni. Quindi, diciamo, da un punto di vista agronomico non ha gelato. E a noi questo interessa, perché noi giardinieri, noi agronomi, noi paesaggisti, noi amanti delle piante parliamo di gelata quando le piante gelano. E questa cosa sta diventando sempre più pervasiva. Perché? Perché ci sono gelate tardive sempre di più. Perché magari l'inverno è più caldo e fa più freddo dopo. Perché, sapete, c'è inerzia. Perché ho detto sapete? Sto parlando a te. Scusami, sai, c'è inerzia nella meteorologia. Quindi, anche se l'inverno inizia a un certo punto, poi il freddo arriva dopo un po', perché è come un grosso macchinone che si muove il nostro pianeta. E la cosa incredibile è che più si alzano le temperature, più l'inverno comincia tardi, più il freddo. Insomma, è counterintuitive, come dicono a Cambridge, Oxford e sicuramente nella mia amata Birmingham. Cioè, è controintuitivo il fatto che all'aumentare delle temperature per il cambiamento climatico, poi ci sia anche un aumento del freddo perché si surriscalda l'Artico e quindi ci sono queste masse di aria gelida che scendono verso sud e quindi comunque un'aria calda per l'Artico è fredda per noi e quindi magari ad aprile arriva un'aria dall'Artico e arriva questa gelata. Proprio a Birmingham mi dicevano che ormai le gelate arrivano anche verso fine maggio e quindi loro stanno sempre sul chi vive. Ma anche qui da noi, in pianura padana, ci sono gelate di aprile ma anche nel centro sud capita che possano esserci cose di questo tipo. Sai, le famose grandini di fine aprile. Insomma, non è proprio una cosa fissa, non è una cosa meccanicamente stabilita che ti fa stare col cuore in pace. E quindi queste gelate sono espressioni di un mondo che cambia, che noi abbiamo influenzato e che ci dobbiamo trovare ad affrontare. Ma io ti voglio parlare non tanto della gelata in sé come fenomeno agronomico ma del fatto che proprio ti porta a doverti confrontare con questa mancanza di certezza. Il fatto che una gelata tardiva possa dimostrare che il clima diventa più caldo e quindi fa più freddo. Ma come? Ma io non capisco questa cosa, non riesco proprio a capirla. E mi viene in mente questa cosa. Quando penso alle gelate penso sempre a un albero di fico, un ficus, di quelli da frutto. E questa pianta, una pianta molto bella, aveva gelato. E quello che è successo è che era diventata, come dire, sembrava gommosa. E al fianco a questo fico c'era un mandarino. Idem, era successa una cosa simile. Lo toccavi e il ramo sembrava quasi di gomma. E allora ero piccolo e parlando mi hanno detto sai questo è perché si gelano i vasi sanguigni della pianta, che non sono sanguigni, l'acqua nella pianta si gela e il ghiaccio occupa più spazio. Quindi è come se spaccasse da dentro la pianta. E poi la temperatura risale e quindi la pianta da durissima gonfia 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 improvvisamente rimane vuota. E questa cosa mi ha sempre fatto molta impressione. Ho sempre, difficilmente penso cose tipo chissà se le piante soffrono. Però ho pensato, è una sofferenza pensare a una cosa del genere. E soprattutto è una sofferenza sentire il legno mollo come se fosse appunto un fico. Come se fosse un fico maturo. Cioè comunque certo è legno. Però è strano. E quindi le gelate sono in qualche modo una delle cose che in questo periodo possono portarci a stare sempre su chi vive ma anche a fare attenzione a quello che succede intorno a noi, a tentare di capire perché le cose succedono che non sono proprio come sembrano. Quindi ti chiedo che cosa c'è, quale fenomeno, quale cosa che succede in giardino a te sembra accadere in modo diverso da come dovrebbe. Se c'è una cosa simile. Fammelo sapere con un commento. Io come sempre ti invito a raggiungermi su giardinorivelato.it e ti ringrazio di aver passato questo tempo con me a chiacchierare con la scusa dei giardini.